Grazie alla sinergia tra pubblico e privato a favore delle aree terremotate dell'Umbria, questa mattina a Foligno è stato consegnato al Centro Regionale della Protezione Civile un mezzo meccanico per la movimentazione dei container, frutto di un progetto elaborato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montone in prima linea sulle aree del sisma dallo scorso 24 agosto al quale ha aderito con entusiasmo un importante multinazionale del settore che ha uno stabilimento ad Umbertide. Alla consegna del macchinario concesso in uso per tutto il tempo necessario all'allestimento dei villaggi container hanno partecipato tra gli altri il consigliere provinciale Gino Emilia anche in veste di sindaco di Cascia e quindi idealmente rappresentante dei comuni del cratere il sindaco di Montone Mirco Rinaldi il dirigente della Protezione Civile Regionale Alfiero Moretti e il direttore dello stabilimento di Umbertide Francesco Aiello al quale sono stati indirizzati i più sentiti ringraziamenti per la messa a disposizione di un mezzo di cui la Prociv Umbra era sprovvista è un'opportunità immensa che ci viene offerta detto il sindaco di Cascia arriva nel momento migliore perché siamo nella fase di chiusura dei campi e della messa in opera dei container devo dire che mai come questa volta sostiene Emilia abbiamo avuto concrete dimostrazioni di solidarietà ed è un onore riceverle dalla propria terra il piccolo comune di Montone è presente a Norcia e nelle altre zone colpite dal sisma non soltanto con una ventina di propri volontari Prociv che si occupano dell'assistenza alla popolazione alloggiata nei campi e a tutte le necessità che man mano si presentano ma anche con squadre di tecnici comunali abilitati ad effettuare i sopralluoghi a Edes quando si verificano catastrofi come questa il minimo che possiamo fare è aiutare la popolazione locale nel modo che ci riesce meglio mettendo a disposizione i nostri macchinari così Francesco Aiello dell'azienda produttrice che spiega abbiamo consegnato oggi il modello più grande e potente tra i nostri sollevatori telescopici alla protezione civile Umbra poter contribuire a dare finalmente un tetto a chi ha perso la propria casa è un'esperienza impagabile per il personale della nostra azienda